Il capitano spiega che Margarita ha una grande somma di denaro recentemente ricevuta e che possono spennarla. Alla fine i cavalieri decidono che Margarita può giocare. All'inizio sembra che Margarita non stia giocando molto bene, ma forse sta solo fingendo di non saper giocare. La notte avanza e il capitano continua a vincere, mentre alcuni giocatori si ritirano. Arriva una mano in cui Margarita dice che le resta poco denaro, ma decide di rischiare. Improvvisamente la sua fortuna inizia a cambiare. Il capitano ha un viso sicuro e gli altri giocatori si ritirano uno a uno dalla partita. Alla fine restano solo il capitano e Margarita faccia a faccia. Lorenzo punta tutto quello che ha e Margarita rilancia dicendo che non ha abbastanza denaro. Lorenzo tira fuori un orologio d'oro e lei dice che è una minuzia, proponendo di puntare il suo 25% della promessa. Sembra che il capitano Lorenzo, inizialmente, non voglia rischiare il suo 25% della promessa, ma alla fine accetta. Tuttavia, il capitano insiste, affinché anche lei scommetta i soldi ricevuti da Don Antonio de Carvajal. Benvenuti sul nostro canale. In questo video vi sveleremo tutte le emozionanti anticipazioni della promessa per il 14 e il 15 luglio. Scoprirete come Lorenzo perde le sue terre della promessa e assisterete all'incredibile messa in scena dell'aborto di Ximena. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuna delle nostre anticipazioni. Cominciamo. Dopo un momento di tensione tra i due, Lorenzo mostra le sue carte, una coppia di re. Margarita svela le sue, una coppia di regine. Sembra che Lorenzo abbia vinto, ma Margarita ha ancora un asso nella manica e, rivelando un'altra regina, forma un tris che batte la coppia di re. Lorenzo è incredulo di aver perso contro Margarita. Lei dice a tutti di aver giocato per recuperare ciò che non avrebbe mai dovuto perdere, suo marito Fernando, che è parte della promessa. Lorenzo è furioso e prende molto male la perdita di tutti i suoi soldi e delle sue terre. Il mattino dopo, Mauro, noto per essere un po' pettegolo e per amare raccontare tutto, sta narrando nella zona di servizio cosa è successo durante la partita a poker. È allora che Hanna esprime la sua gioia per il fatto che Margarita sia diventata la nuova proprietaria di un quarto della promessa e spiega agli altri tutto ciò che è accaduto con il fratello del Marchese quando Pedro è annegato nella pozza d'acqua. Nel frattempo, in cucina, Simona sembra essere confusa e ha bisogno che Lope le dia indicazioni su come preparare uno stufato. È evidente che Lope si diverte molto quando è in cucina e confessa a Simona di sentirsi come un pesce fuor d'acqua ora che deve lavorare come la che. All'improvviso arriva Felisiano, che chiede a Lope come va con Don Pelaio e inizia a dargli alcuni consigli, anche se Lope sembra non apprezzarli molto e risponde in modo brusco. Durante la colazione i Marchesi discutono di questioni relative all'Europa quando improvvisamente appare il Capitano Lorenzo con un'espressione molto seria. I Marchesi gli chiedono come sia andata la notte precedente con la partita a poker e lui racconta che Margarita ha vinto tutto, inclusa la sua quota della promessa. La Marchesa si sente male nel sentire ciò, si copre il viso ed è furiosa. A quel punto il Marchese se ne va e restano soli il Capitano e Donna Cruz. Lei gli dice che non tollererà che Margarita prenda il controllo della promessa e che farà tutto il necessario per impedirlo. Intanto Margarita e sua figlia Martina passeggiano nel giardino e lei racconta alla figlia come è andata la partita a poker. Le dice che ha partecipato per onorare la memoria di suo padre e che ora possiede il 25% della promessa di diritto. Dice alla figlia che la prima cosa che faranno sarà abbandonare il lutto e le chiede di salire immediatamente a cambiarsi. Ana parla con Maria Fernandez di come Manuel tratti sua moglie, Lady Bugiarda. È anche preoccupata perché il giovane signore non ha ancora avuto il coraggio di parlare con sua madre riguardo Ramona. Dall'altra parte le cuoche vanno a trovare Pia nel suo ufficio, le portano una tisana e una lista di cose che mancano in cucina da comprare. La governante confessa di sentirsi in colpa per il ritorno di Petra. Poi Simona e Pia se ne vanno e Candela resta lì a prendersi cura di Dieghito. Dopo un po' Donna Pia torna dall'incontro con la Benni, la moglie del mugnaio, che sembra sarà quella che si prenderà cura di Dieghito. Nei corridoi del palazzo, Ana incontra il signorino Manuel e coglie l'occasione per chiedergli se ha parlato con sua madre, Donna Cruz. Manuel confessa che sua madre gli ha mentito, ma non sa il motivo. Dice che parlerà nuovamente con lei e le mostrerà il ventaglio per cercare di smascherarla. In un'altra scena Teresa parla con Felisiano e gli racconta che durante il periodo in cui la Marchesa era in casa di riposo, Petra è cambiata e tutti l'avevano accettata e trattata come una persona in più al servizio. Per questo motivo Teresa pensa che anche a Felisiano verrà data una seconda opportunità. Dall'altra parte Catalina discute con Pelaio della produzione della frutta e le forniture di zucchero per le marmellate quando improvvisamente appare la Marchesa, che confessa di non gradire l'idea dell'impresa perché non vuole diventare il bersaglio delle risate del paese, insinuando che si pensi che alla promessa abbiano bisogno delle donne della zona per portare avanti certi affari. Cruz dice in faccia a Catalina che dovrebbe cercarsi un marito per comandare nella propria casa perché alla promessa comanda lei. In quel momento Pelaio interviene a difesa della signorina Catalina e dice alla Marchesa che dovrebbe sostenerli come fa il Marchese anziché mettergli i bastoni tra le ruote. Nel frattempo, al piano di sotto, i lacche stanno sistemando i vestiti e Lope non è affatto contento di quel lavoro. Salvador gli dice che presto tornerà in cucina perché i signori sentiranno la mancanza dei suoi piatti, ma Lope vede tutto molto negativamente. Il maggiordomo Romulo annuncia l'arrivo di Donna Petra e chiede a tutti di seppellire l'ascia di guerra e di andare d'accordo con lei. Poi, a tu per tu con Felisiano, Petra gli chiede delle novità durante la sua assenza nel palazzo. Inoltre, gli dice che non deve umiliarsi davanti alla servitù perché non è più il momento delle umiliazioni, ma della vendetta, e lo dice con un'espressione folle. Il maestro Don Carlos arriva in cucina e chiede a Candela di sedersi perché vuole parlarle. Sembra che finalmente abbia trovato il coraggio sufficiente. Le rivela che il lavoro di sua figlia Casilda non è a Siviglia, ma a Gihon, e che lui non vuole separarsi da lei poiché che non ha famiglia né amici. Le dice che se decide di sposarlo dovrà trasferirsi con loro a Gihon. Candela resta senza parole e non risponde. Il signorino Manuel va a cercare sua moglie, Lady Jimena, nella camera da letto e le propone di fare una passeggiata, ma lei preferisce coricarsi presto. Chiede a suo marito di parlare con Teresa e di chiederle di svegliarla tra un'ora e mezza. Manuel la copre e le dà un bacio sulla fronte, poi se ne va. Il povero ingenuo Manuel non sa cosa l'aspetta. Quando passa il tempo stabilito, Teresa va a svegliare Lady Jimena e, alzandosi dal letto, la trova in una chiazza di sangue. A quanto pare, il piano di Jimena e del medico per far credere a tutti di aver perso il bambino è già in atto. In un'altra scena Manuel entra nella camera da letto di sua madre e solleva nuovamente la questione di Ramona. A Cruz non piace che si parli ancora di quel tema e il giovane le dice che le darà una seconda opportunità per raccontargli tutta la verità. Estrae il ventaglio e le dice che era nella casa di Ramona. Ora la Marchesa dice di non aver affermato di non conoscerla. Secondo lei, voleva dire che non la conosceva bene. Racconta una storia di molti anni fa, quando Leonor era piccola. Mentre passeggiavano per i campi, Leonor è stata punta da un'ape e Ramona è apparsa dal nulla e si è occupata della situazione. Suo figlio risponde che è una storia incredibile, ma che non ha nulla a che vedere con il ventaglio trovato nella capanna di Ramona. Cruz dice allora che stava passeggiando vicino alla capanna e, ricordando che la gente di Lujan diceva che era tornata, decise di farle visita. Non parlarono di nulla in particolare, solo banalità. Secondo la Marchesa, si sentiva molto a disagio lì e voleva andarsene il prima possibile e, per la fretta, probabilmente ha scordato il suo ventaglio. Sembra che il signorino Manuel non creda alla storia di sua madre, quando improvvisamente si sentono delle grida a chiedere aiuto. Tutti corrono nella camera di Shimena, dove Lady Bugiarda sta recitando la parte della sua vita. Improvvisamente appare il dottor Abel e chiede a tutti di andarsene immediatamente e di lasciarlo solo con lei per visitarla. Tutti aspettano con ansia notizie al piano di sotto. Pelaio chiede di non essere pessimisti. Poi arriva il signorino Manuel e racconta che Abel sta visitando sua moglie. Nel frattempo, Teresa è al piano di sotto, nella zona di servizio, raccontando tutto ciò che è successo ai suoi colleghi. Mentre Abel e Shimena sono solo in camera, parlano del fatto che tutto sta andando secondo i piani e il medico le propone di dire che le farà un raschiamento e dovrà fingere che sarà doloroso. Poi arriva Hana alla porta e Abel non lascia entrare né lei né il signorino Manuel. La domestica dice al signorino che ha visto molto sangue e che questo non è un buon segno. Giù in cucina, Candela ha detto di sì a Don Carlos. Sembra che finalmente si sposeranno. Lei dice che non vuole lasciarsi sfuggire l'opportunità che la vita le sta dando per essere felice. Nel frattempo, Alonso e Cruz sono nell'ufficio e la Marchesa è molto nervosa. Il Marchese, più calmo, invita sua moglie ad avere pazienza e le domanda perché ha tolto Lope dalle cucine. Vuole sapere se ha qualcosa a che fare con l'impresa delle marmellate di Catalina e le domanda direttamente se sta cercando di boicottarla. La Marchesa, infastidita, risponde che quella è una questione sua. Improvvisamente arriva Margarita e chiede come sta Ximena e la Marchesa le rimprovera la sua partecipazione alla partita di poker. Sembra che Donna Cruz sia piuttosto infuriata e Margarita gode nel vedere la sua espressione. Pia e Romulo discutono del futuro di Dieghito e sembra che la governante abbia già raggiunto un accordo con Benny, la moglie del mugnaio, che si prenderà cura del bambino per tenerlo lontano dal palazzo, ora che la signora Arcos è tornata. Credono che dovrebbero parlare con Petra e dirle che faranno la loro parte per mantenere l'armonia, aspettandosi lo stesso da lei. In seguito, Donna Pia convoca Petra nel suo ufficio e le propone di fare uno sforzo reciproco per garantire la pace. Sono passate già due ore da quando Abel e Ximena sono chiusi nella camera da letto, fingendo il falso aborto e tenendo tutta la famiglia in ansia nel salotto. Improvvisamente Abel appare con un'aria grave e annuncia la cattiva notizia che Lady Bugiarda ha falsamente perso il suo finto bambino. Manuel esplode di rabbia e diventa quasi violento con il suo amico, rimproverandolo di avergli assicurato che tutto andava bene. Abel spiega che il feto aveva delle malformazioni. Alla fine Manuel resta inconsolabile, piangendo tra le braccia di sua sorella Catalina, mentre il marchese chiede ad Abel di andare a riposare, data la stanchezza evidente. In seguito Abel scende nella zona di servizio e comunica la triste notizia. Tutti rimangono molto colpiti, soprattutto Teresa che si mette a piangere disperatamente. Il furbo medico approfitta della circostanza per stringere Hannah in un forte abbraccio. Il giorno seguente Petra arriva nella camera da letto della marchesa molto presto e le dice che le dispiace per la perdita del nipote. La marchesa le rinfaccia che a causa sua dovrà pagare il mantenimento di Dieghito per tutta la vita e che se commetterà un altro errore del genere sarà lei stessa a rovinarla. Dopo averle dato un vestito nero la marchesa le dice di portarlo via perché non vuole indossare il lutto per la perdita del bambino di Ximena poiché devono voltare pagina il prima possibile. Romulo arriva nel suo ufficio e trova Felisiano ad attenderlo, cosa che non gli fa molto piacere. Tuttavia gli dice che tutti devono sforzarsi affinché l'atmosfera nella zona di servizio migliori e gli chiede di tornare a mangiare con il resto del personale. Intanto il capitano Lorenzo affronta Margarita in giardino e cerca di convincerla che la partita a poker era solo uno scherzo. Margarita non si lascia ingannare e risponde che ciò che accade nel gioco è sacro e che lei ha vinto legittimamente. Ora è il momento di pagare piaccia o no e la cosa migliore che può fare è preparare tutta la documentazione per consegnargliela quanto prima. Poi Margarita se ne va lasciando il capitano Lorenzo piantato lì con un'espressione stupita per la sua determinazione. Mentre stanno mangiando nella zona di servizio Pia chiede a tutti di impegnarsi di più nei loro compiti per garantire che tutto sia perfetto dato che nella zona nobile stanno soffrendo molto a causa del falso aborto di Ximena. Inoltre richiede anche che seppelliscano l'ascia di guerra. Petra si alza e rivolge alcune parole a tutti dicendo che quando ha preso il bambino aveva le sue ragioni e chiede scusa se ha causato sofferenza a qualcuno con i suoi atti. Allora la signora Garre sperando che le cose migliorino le dice che per lei è tutto dimenticato. Il signorino Manuel va a svegliare Ximena la mattina seguente e Lady Bugiarda fa la martire davanti a suo marito. Manuel è visibilmente distrutto, si abbracciano e in quel momento entra la cameriera Hana che li vede abbracciati e si accorge che Ximena sta sorridendo con un'espressione di sollievo. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie scrivete voglio il seguito nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie